e salve a tutti youtubers qui calico84 e bentornati su oculus rift games erano mesi 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 che cercavo un gioco di questo tipo di tutti quanti i giochi di simulazione di combattimento di quello che volete che ci sono per l'oculus rift l'unico che non avevo ancora trovato per il dk2 era un cacchio di gioco di simulazione di robot di mac ok ho cercato per mesi un gioco nel quale potessi guidare un cavolo di mac l'unico era hoken ma ci voleva il dk1 prova ho provato col dk2 e non andava e 40 euro per quel cavolo di programma che mi fa fare una specie di realtà virtuale ma che non lo è perché nuovo la testa è come se muovesse il mouse no non mi va di comprarlo finalmente ho trovato un gioco in cui si pilota un mac con l'oculus rift o ok signori vabbè zitto telefono allora questo gioco è solamente diciamo una demo al momento c'è l'allenamento e un livello da fare ho provato l'allenamento giusto per capire se riuscivo a farlo andare se funziona ma tutto funziona tutto benissimo guarderemo sia l'allenamento che il livello che non ho ancora giocato e dire di passare direttamente al gioco ed eccoci qua il gioco è vox macchinae della space bullet dynamic corporation un nome più corto non potevano trovarlo ma direi di gettarci nel gioco e vedere di cosa si tratta come vedete ho questa impostazione particolare dove voi mi vedete a destra o a sinistra credo e vedete soltanto uno degli occhi dell'oculus non non allungati non appiattiti in questo modo vedete esattamente quali sono le proporzioni bisogna sperimentare ragazzi e dove cavolo l'ho messo qua sto utilizzando un pad ouch dovreste vederlo benissimo e vediamo un po come ce la caviamo quadrato exit tutorial missione direi tutorial per cominciare ragazzi ok abbiamo una casetta praticamente questa burilletto con la tv l'acqua una leva qua sopra che non posso afferrare si va bene premiamo il debut aspetta mi allontano un attimino ok vedo il mio corpo va bene va bene va bene mamma mia che insistente sta tipa hai potuto faccio pure le battute uuh ah ok siamo così è come dovremmo essere quindi mi sposto un po più avanti spero che mi vediate ancora Se non sbatto conto il microfono dovreste vedermi Ok Sì, sì, vabbè Mamma mia che insistente sta tipa Già mi sta simpatica Ok, sticcavi i maledetti Wow Ok Sì? Ok Wow, quella lì, questa qua davanti è la nostra velocità Ok Minchè che gentile Oh, missili Wow Ah, questo è calor Cosa è che devo fare? Ah Ok 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 Ok, sono assoluto qua sopra Dov'è che devo andare? Voi avete sentito? Io no Ero troppo impegnato Mamma mia che figata Vien voglia di afferrare la cosa analogica qua Però non c'è realmente Questo dovrebbe essere tipo il ma... Mamma mia che figata Sembra davvero di essere... Vien da premere i bottoni Ragazzi che figo Ok Ok Saldiamola sopra Proviamo Uuuuuh Allora, io sono un grinder Quindi il robotto qua in me che si chiamano grinder E la cosa figa è che La cabina qua davanti Mi impedisce anche la visione in certi punti Realistico in una maniera Io non ho capito Tutto sarà l'espulsione Questa barra qua sopra E poi dico tutto buio Comunque Vediamo un po' E qua sotto Uuuuuh Ciao Uuuuh Eheh Ok Andiamo di qua Forza Qua è la mia ombra Oh yeah Fuoco Non scappi Non scappi Via le gambe Via le gambe Via le gambe Uuuuh Yeah Uuuuh Bellissimo Adesso Vedo uno schermo nero Oh Uuuuh 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 Il bello è che si muovo la testa Si muove anche il mio busto Uuuuh Cioè E' realistico Uuuuh Cioè diciamo che se uno avesse Una cloche qua E l'acceleratore qua Si comprano, si trovano Sarebbe realistico in una maniera vergognosa Sto gioco, cioè proprio sarebbe Sarebbe lui Datemi la possibilità di avere Di vedere davvero le mie mani in questo gioco E questa è la realtà virtuale Al 100% Anche così può andare bene comunque Ok, guardate le mie mani Si muovono Ah, l'ho visto C'è le mani che si muovono a seconda Di dove io punto Non ho capito bene il motivo però Wow Questo è il mio laser Mecchia Cos'è che dovevo fare? Vabbè noi andiamo qua Cosa troveremo Minchia quanto ho fatto bene Ok Dove? Detected ma io non vedo Uh, ciao Devi morire Ok Oddio mi ha No, mi hanno distrutto Au Ok È andata bene ma Era un ottimo combattente È per quello che Wow Posso dare il calcio alle cose? No Wow Bello fare a pe... E McWarrior misto ad Hoken Mi piace sta cosa No Più McWarrior C'è meno Hoken Siamo molto più lenti Giustamente Nausea zero Perché effettivamente sono dentro una cabina di pilotaggio Quindi Ha senso che mi muovo Ok Perché sento Ok Enemy grind Oh Ok ragazzi Quel momento Uh Ok Uh Anche con le freccette analogiche posso muovermi Muori muori No 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 Ok Finita Ho vinto Oh Uh 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 Ok Oh Uh Ciccio Non lo sai con chi hai a che fare Qui hai a che fare con Me Ce la facciamo Fate saltare Forza Dai Girati Forza Ok E questo è andato Ok evidentemente Sono abbastanza stupidi I nostri nemici Uh Ok Uh Eh va Gli ho fatto saltare Tutte e due le braccia Uh Uh Oh ma sto arrivando con una mamma sola No 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 Demo limit Altitude Ho sentito un altitude Ok dove sei Dove sei Eccolo Wow Ragazzi Sono con una gamba sola Non lo vedo Spero solo di colpirlo Ok L'ho colpito Gli ho rotto qualche cosa E non lo vedo più Uh Eccolo la Eccolo la Ok Forza all'inseguimento Girati Girati Ok Non ho più Energia Non posso più muovere Posso muovere solo con i jet Fuoco 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 Non lo distingo più Talmente lontano Non ti muovi più Amico Non ti muovi più Oh yeah Ora Wow Ho completato Al primo colpo Con una gamba sola Wow Wow Ok Ce l'abbiamo fatta Tornato Le cuffie Perché Mi distraggono Fuoco Ragazzi Questo era Box Machinae Wow Cioè Questo gioco Mi fa dire Per quale ragione Non fanno Giochi di Mech Per l'Oculus Rift Cioè Non ha seguito E' Meraviglioso Posso capire i giochi di astronavi Che sono fighi Vanno di moda Tutti quanti piace pilotare L'astronave Andare a fare esplodere nemici Ma Fatemi pilotare un Mech Infilatemi dentro Una cavolo di cabina Di comando Di un robot Come questo E Cioè Come ho detto Gli unici due giochi Che ho trovato Che facevano Quest Cioè Gli unici L'unico gioco Che ho trovato Che faceva questa cosa Era Hawken Ed era solamente Per l'Oculus Rift DK1 Che tra l'altro Non ho Se no L'avrei anche provato E basta Non ha senso Cioè Appunto Hawken Che potrebbe tranquillamente Passare al DK2 Penso che gli basti Cambiare un po' di linee Di codice Sapranno farlo Se l'hanno fatto per il DK1 Lo possono fare anche per il DK2 E poi c'è MechWarrior Online MechWarrior Online Sembra perfetto Di base E fatto per essere In prima persona Con te Dentro la cabina di comando E c'è il modello 3D Del tuo Mino Non c'è nessuna ragione Per non metterci supporto Per l'Oculus Rift Eppure Non lo fanno Non riesco a capire perché Grazie al cielo È arrivato questo E Spero veramente Che diventi un gioco Completo Sarò il primo In fila Ad acquistarlo Esattamente come Radial G Sono il primo C'è Lo prendo Mio Basta Viene Deciso Comunque ragazzi Vi lascio il link In descrizione Al sito Dove potete Scaricare la demo Non sono sicuro Che si possa giocarci Senza L'Oculus Rift Perché proprio È incentrato Per l'Oculus Rift Però probabilmente Si può Non lo so Date un'occhiata Se volete Se avete l'Oculus Rift E non l'avete mai provato Filate subito 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 Ok Veloci Per quanto riguarda Tutti questi e gli altri Il video finisce qui Spero che abbiate gradito In tal caso Cliccate se mi piace Commentate Iscrivetevi al mio canale Per altri video Ricordate che mi trovate Anche su Twitch Twitter E Facebook E noi ci vediamo Alla prossima ragazzi Ciao ciao E io vi faccio Un altro giretto